Cristian Pasquato, dopo la sconfitta con la Ternana c'è subito il Bologna, un osso durissimo. I Felsini stanno attrezzando una squadra sul mercato che può sembrare davvero a questo punto una corazzata. Sicuramente il Bologna è una piazza che merita rispetto e la società si sta muovendo al meglio. Non dobbiamo avere paura di questo, anzi dobbiamo essere entusiasti di andare a giocare comunque contro una squadra del livello forse superiore di tutto il campionato e con la tranquillità e consapevoli di quelle che sono le nostre forze. Sei tornato a giocare già da alcune settimane con una certa continuità a Trapani in coppia con Melchiori. Era andata benissimo, con la Ternana è andata meno bene. Ora il Pescara sul mercato dovrà reperire un paio di attaccanti. Insomma la paura è quella di poter perdere nuovamente il posto? No, 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 io vorrei che questa squadra fosse ancora più competitiva di quello che già è e quindi vorrei che un attaccante se non due arrivassero, ma non perché stiamo facendo male o perché ci sia tutto questo bisogno, perché dopo Trapani sembrava che fosse tutto rosa e fiori e invece io ero comunque consapevole che per essere ancora più competitivi in questo campionato c'è bisogno di concorrenza e quindi spero che la società si muova e comunque sapranno loro sicuramente fare il loro dovere. Cosa ci vorrà per battere il Bologna? Sicuramente più fame di loro, ora loro hanno entusiasmo, hai detto bene prima tu stanno costruendo una squadra di tutto rispetto e quindi dovremo andare in campo determinati e cattivi e fare quello che comunque proviamo nelle ultime settimane.